Una situazione davvero incredibile, uno schiaffo alla città di Taranto e al turismo, alle prospettive turistiche. Siamo proprio all'entrata di Taranto nella famosa area camper. Siamo con Massimo Battista, collega consigliere comunale di Una Città per Cambiare. E allora Massimo, questa realtà, quest'area camper da anni e anni e anni abbandonata che compare periodicamente nei rendering, nei libri dei sogni dell'amministrazione comunale e poi alla fine è qui una discarica a cielo aperto completamente abbandonata. Luigi, io sono stanchissimo di denunciare questa situazione perché qualcuno che mi smentesca avrò fatto non so quante interrogazioni, non so quante emozioni, non so quanti assessori si sono succeduti per quest'area. I camperisti, il presidente dei camperisti è stato preso letteralmente in giro, ci troviamo qui all'ingresso della città di Taranto, non è un bel vedere. Ci proiettiamo, come qualcuno dice, verso i giochi del Mediterraneo, questo periodicamente appare sul Masterplan, queste condizioni Luigi le ho denunciate sette anni fa, otto anni fa, cinque anni fa, durante la campagna elettorale. Il problema è che questa amministrazione naviga a vista. La cosa grave è che se da un lato Manzulli, vice sindaco, assessore allo sviluppo economico, quindi marketing territoriale, turismo e quant'altro, e Melucci parlano di una città capitale di mare, dicono a loro dire nella loro fantasia che Taranto ha una dimensione turistica, beh mi sembra assurdo che si parli di dimensione turistica quando i camper poi devono andare a fermarsi a decine e decine di chilometri da Taranto a Leporano e Pulsano. Cioè è mai possibile che il capoluogo di Taranto non abbia un'area camper e che non solo, no, il problema è che l'area ce l'ha, fin quando non l'avesse ancora ancora, ma è in condizioni di assoluta fatiscienza. Quest'area è chiusa da tantissimi anni, chi ha avuto la gestione si sono succeduti nel tempo, adesso la gestione è a Chima Mobilità. Allora, dalle immagini si può evincere di come noi ci troviamo all'entrata di Taranto, immaginate un turista che viene da fuori Italia o dall'Italia, dal nord Italia, questa è la cartolina che presenta la città di Taranto, non è un belvedere, è che qualcuno ci smentisca su quello che io sto asserendo e dicendo, perché è una situazione che portiamo avanti ormai da tantissimo tempo, ci sono assessori che venivano qui a farsi la campagna elettorale, hanno annunciato la riapertura e le condizioni in cui siamo al 12 luglio 2023 è fatiscente e pietosa. Ci siamo spostati di qualche metro e riflettevamo, ma quest'area immensa poteva ospitare oltre che strutture ricettive, quindi ristoranti, pizzerie, ma anche luoghi proprio di esposizione, luoghi di aggregazione, quindi davvero un universo mondo, un mare magno attraverso cui far crescere veramente il territorio. Certo, Luigi, questa è un'area immensa, questo quartiere sprovvisto di aree dedicate a bambini, anziani, basta pensare che qui a 150 metri ci troviamo vicino al parco archeologico e vedo la sera gli anziani che si importano le sedie da casa e stanno lì. Quale migliore occasione qui? Un bar, un luogo per prendere un po' d'aria? Il problema di fondo, Luigi, ripeto, siamo demoralizzati perché poi non vogliamo essere etichettati per quelli che non propongono, le proposte le abbiamo fatte, purtroppo quando parli a qualcuno che non sente diventa molto ma molto difficile. D'altronde non è che possiamo Massimo prendere la polvere e nasconderla sotto il tappeto? A noi ci criticano, a quello che dicevo prima anche sulla questione stadio, noi siamo dei consiglieri di opposizione, denunciamo, facciamo le proposte, quelle che abbiamo fatto anche sulla questione passerelle, sulla questione delle biomasse vegetali e proprio perché questa amministrazione non sente. Un'amministrazione sorda. Quando poi il vice sindaco Manzulli parla di sentiment, di questo sentimento che dovrebbe ispirare i turisti, i visitatori a venire a Taranto, allora io vorrei sapere, il camperista che gira il mondo, che gira l'Italia e che decide di arrivare a Taranto, qual è il sentimento, qual è lo stato d'animo del camperista quando arriva e chiede l'area camper di Taranto e poi si trova questo scempio? Noi siamo per il bene assoluto della nostra città, qui si fa tanto, tanto clamore, si fanno tanti annunci. La politica degli annunci. La politica degli annunci, però poi sostanzialmente i fatti sono sotto gli occhi di tutti, i giochi del Mediterraneo si avvicinano, poi sulla questione a stadio rientreremo a bomba. Oggi c'è anche la polemica del presidente Malagò che giustamente dice, perché io ho letto, ora stiamo parlando di un altro argomento, Luigi, ho letto le affermazioni, l'intervista rilasciata da chi ha presentato quel progetto, ho visto anche ciò che ha detto il sindaco Melucci che chiede cosa voglia fare dello stadio il presidente del Taranto Calcio. Cosa c'entra, Luigi? Qua stiamo continuando a prendere in giro la città di Taranto, questi non sono in grado di amministrare. Ma non solo non sono in grado di amministrare, ma mentono sapendo di mentire. Noi assistiamo, io sentivo l'altro giorno le dichiarazioni di Mattia Giorno, ex assessore ai lavori pubblici, ora all'urbanistica, seduto comodamente al fresco di Palazzo di Città e parla, magnifica. Una persona che non sa, che non vive Taranto, che non è tarantino, pensa che Taranto sia diventata Hollywood. Taranto è diventata, con l'amministrazione Melucci, una città da terzo mondo, perché solo nel terzo mondo, nell'area riservata ai camperisti, noi assistiamo a questi scempi. E' così Luigi, basta farsi un giro la sera, qui non arriva nessuno, non ci sono eventi. Qui si continuano a rilargire le somme di denaro agli amici degli amici, lo ribadiremo fino alla noia. I soliti noti. I soliti noti, che li vediamo anche quando tu fai quegli assalti democratici. Che continueranno, chiariamolo. Vediamo sempre quei personaggi che purtroppo si sono venduti, bisogna dirlo, bisogna dirle queste cose alla cittadinanza. Allora se la città di Taranto vede dei miglioramenti in questo territorio, che ce lo facesse sapere? Ieri ci siamo fatti un giro, ieri e avanti in città, la città era desolatamente vuota. La città oltre ad essere vuota, trasformata in un immondezzaio pubblico. Ma ripeto, tornando e concludendo il tema fondamentale di oggi, l'argomento che stiamo affrontando, io penso che una città che voglia dirsi turistica non può permettersi certe situazioni vergognose. Questa è l'antitesi, l'esatto opposto di una città turistica. L'area camper, che dovrebbe essere il fulcro, è umiliata. Io non sono entrato nel merito di questa questione, perché pure chi ci vede da casa dice che questi parlano degli stessi argomenti e poi non portano risoluzioni. Ripeto, il sottoscritto ha presentato non so quante interrogazioni, non so quante emozioni. Questo problema doveva essere risolto, se non sbaglio, 3-4 anni fa. Il presidente dei camperisti è stato preso letteralmente in giro. Questa è la situazione oggi, 12 luglio. Una situazione vergognosa.